Siamo tornati con un nuovo video, oggi vi propongo una sfida. Se arriviamo a 2000 su Instagram, mi potete trovare come Mattia-Lonwolf92-Guarracino, ma comunque ve lo lascio sia qui che sotto in descrizione. Se arriviamo a 2000, giocherò un footdraft con Ronaldo e Messi, difensori centrali. Aspettate, ovviamente non è detto che uscirà uno di loro due, ma qualsiasi giocatore, o che ne so, tipo Neymar, Hazard, qualcuno di questi, capiterà per forza. Lo mettiamo difensore centrale e tenteremo di fare la scalata qui, cioè con voi comunque su YouTube, ve la porterò. Quindi regà, a 2000, ragazzi, 2000 devono arrivare entro tre giorni, quindi oggi è 5. Domani sei, sette, entro l'otto gennaio dobbiamo arrivare a 2000 su Instagram e farò questo video e sprecherò sti 15.000 perché regà è tipo difficilissimo, porta comunque alla vittoria qualcosa. E poi vi volevo dire che domani uscirà Road to Division One, siamo alla Division 6 ovviamente, come sapete. Bisogna vedere com'è andata, io in realtà l'ho già registrato, potete capire, potete capire che... c'è stato un partitone, una è stata veramente, veramente tostissima e non è detto che l'ho portata a casa, tra l'altro. Quindi regà, mi raccomando, 2000 su Instagram, arriviamoci... Oh, non maniate troppo domani, domani ci stanno tipo troppi dolcetti, non va bene. Già adesso a vedere che stai che caramello in bocca, sì sì, proprio a testo di... Dai ragazzi, allora arriviamo a 2000 su Instagram e faremo questo footdraft tipo impossibile con i migliori attaccanti difensori centrali. E in attacco però magari qualche attaccante concedetemelo, comunque in caso proponetevi voi qui sotto, mi proponete che sfida dovrei fare su footdraft. Non me dite il portiere in attacco, dite qualcosa di figo come potrebbe uscire. Dai regà, mi raccomando, ci vediamo molto presto, ciò belli. Grazie a tutti.